Domenica sarà la prima partita, lì collauderemo il gruppo, anche se la prima partita si sa, non è che abbia un senso tecnico, però è il banco di prova per capire se anche quest'anno abbiamo fatto un ottimo gruppo e se si vedrà il campionato. Da domenica capiremo, comunque consideriamo che c'è ancora un mese di mercato e noi siamo pronti sempre a fare quel piccolo sacrificio per aumentare il nostro target. La Team Cup giustamente non è l'obiettivo dell'Aquila, quindi è solo un banco di prova per vedere cosa manca e che cosa bisogna fare. Senza dubbio, domani e domenica testeremo la squadra e vedremo se che cosa saremo capaci di fare quest'anno. I ragazzi sono in forma, io confido nel tecnico, mi sono piaciute tantissimo le parole che ha detto nel ritiro di quando sono andato io l'altro ieri, dicendo che lui è veramente soddisfatto di questi ragazzi, soddisfatto del gruppo e vede pochissime carenze nel gruppo. Quindi questo domenica ci darà modo di capire quale possono essere le carenze e quindi cambiare qualche cosina in corso d'opera è fattibilissimo.